Domani invece l'Espresso, il settimanale diretto, dico in modo magistrale perché ha avuto un exploit dall'amico Tommaso Cerno, esce in copertina la foto di Emma Bonino. Emma Bonino, persona dell'anno, nel caos politico del 2016 il volto migliore della battaglia civile. Io lo sottoscrivo. E lei? Stefano Santarossa, componente del Comitato Nazionale del Partito Radicale Italiano. E' abbastanza anomalo che un settimanale come l'Espresso decida di dedicare questo riconoscimento ad Emma, in un momento in cui sembra che i radicali siano spariti, nessuno li sente più. E invece controcorrente rispetto anche a quello che sta accadendo nella politica nazionale, sceglie Emma Bonino come volto migliore di questo paese. E lo dice tra l'altro Tommaso Cerno, che dedica anche, oltre ad esserci un davvero interessante articolo a cura di Denise Pardo, che ripercorre un po' la vita politica e anche personale di Emma, spiega perché la scelta di Emma Bonino. E l'ha fatto Tommaso Cerno nel suo editoriale, in cui dice abbiamo scelto di ritrarre in copertina come persona dell'anno Emma Bonino, classe 48, parlamentare, ministro, eurodeputata, prima e unica donna candidata alla presidenza della Repubblica, da un movimento trasversale che non bastò a portare l'equilibrio di lindale, ma lasciò un segno indelebile nel paese, forse uno degli ultimi e soprattutto la nostra più grande combattente per le donne, per i delitti, per la libertà degli individui, per difendere chi la pensa diversamente, combattente per la non violenza della ragione, combattente per la coscienza di un'Europa che sembra fare di tutto per dissolversi. Sembra quasi un'investitura, crediamo in Emma, crediamo nella storia radicale, crediamo finalmente anche in qualcuno che può rappresentare una scelta alternativa rispetto a delle... sembrava che nei Cinque Stelle ci fosse la soluzione. Poi abbiamo visto cosa sta succedendo a Roma, abbiamo visto come un movimento decide di non mettere il rispetto del diritto come primo aspetto della sua azione politica. Gridare onestà, onestà, come fanno i Cinque Stelle, quando non si considera che una persona, fino a prova contraria, è innocente fino a che non c'è stata la sentenza definitiva, che non basta che un parlamentare sia accusato di un qualsiasi tipo di malefatta per costringerlo a dimettersi. Abbiamo visto cosa è successo, il governatore del Turco, della regione Abruzzo, 15 anni fa è stato accusato di aver preso tangenti, ora è stato prosciolto. Ma voi vi chiedete cosa è successo a quel... E' stato condannato e poi prosciolto. Sì, ma voglio dire, dopo 15 anni, dopo 10 anni, non c'era uno straccio di prova. Allora, di fronte a questo, forse dire che la giustizia è la prima cosa da affrontare in questo paese. Ecco, ci sono i radicali che lo dicono. Allora, io ringrazio davvero, se si sta ascoltando, Tommaso Cerno, che tra l'altro è un ottimo giornalista che con Teleporneone ha avuto molto a che fare. Certo, ha lavorato anche con noi, sì. Perché l'Espresso, negli anni 70, se ricorda il lettore, decise... Era un grande foglio. Decise di fare proprio sulle battaglie civili... Certo, certo, certo. ...una specie di organo anche di informazioni, insieme a ABC, no? No, sì, sì, sì. Proprio per sostegno dei radicali. Io ancora quei numeri, li farò vedere. Purtroppo, dopo ha scelto altro, ha scelto altro. Adesso questo cambio, spero sia un cambio anche per il prossimo anno, per mettere questi temi... Tommaso l'ha fatto in questi anni. Certo, sì. ...ha modificato anche... No, no, è vero, è vero, è vero, è vero. Quindi domani con Repubblica si può... Lei è preso. ...un numero speciale.